guardiamo chi è lo sfidante, non scherzo, chi è il quarto fantastico 4 deve essere la cosa insieme, quella si allunga mister fantastico mi viene il nome, scusate mi allungo ah l'idea, questi battuti si sconci è leno, cioè insomma oddio ho la pancia a venti volte più lunga del normale, vai sega dorsi, guardalo via allora megafugno dai altra idea vi rimossali sapete che in realtà wimpy mi faceva comodo, forse contro sega, dorsi che cazzo vaga pugno poteva servire è già morta la wimpy è morta no però po' ci manca eccoci, fallito il dio pompa morto merda non è morto merda tomo wimpy anche se puoi riuscire alla magica ricarica totale vai cioè io non mi ricordo se i pokémon tipo erba tolgono tanto a insomma a gheridos eh no infatti ho detto boi per raggio contro wimpy ma sei un bastardo sei boi che zotta sei valla sbriciolato ora si mette majin buu bene troiavi rimossali forza idropompa maledetti ma quanti ce n'ha? guarda ragazzi questo era l'ultimo ce n'ha cinque se non sbaglio sono cinque forti eccoci ferraggio buono, via se è fatta Ale è un'andata l'ha ammazzati due e mezzo però è un'andata crue crue salve qua addio buono buono sperando arrivata buono Vai, morto, regola, che è andato, e si sa la 66 con Majin Bu, Waluigi, si rimane così, Ancora caccio in volo, la noia, mettiamo Zap Toast, Volo, va su, Dio, buono, Dio, vai, ricarica, no, buono, morto, ciao, Waluigi, Chi cazzo è? Ma l'ho mai visto? Matto, ferakineto, vediamo su un'onda, si si paralizza, perché voglio un po' non ricaricare gli altri, buono, Zaino, boh, se c'è qualche mossa di osio, di scossa, diciamo, di elettro, mi potevo levare uno sbotto, invece, non c'è un cazzo, questi guai ce la fa Matto Winter, sperando che poi, quando entreranno, muoia, Grandi Bono Dai, 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 mitropompa, bene, che fallito, loia, Dio, loioso, Stagrani, quanto rompe le palle, come è, via, via, Dai, ne rifalliti, troppo, un po', come godo, come ci godo, Via, l'ultimo, po' c'è ne maxi, adesso si può attaccare, eh, Eh, vabbè, morto, probabilmente, no, buono, ma si è messi Grandino, eccoci, Madonna, è palle per sta Grandino, eh, la regola dovrebbe morire, comunque, eh, guardiamo, Vi spiego perché, eh, se non dovesse diventare rossa, probabilmente, potrebbe attaccare, e la regola dovrebbe morire, Tata, tata, morto, vale, L'ultimo che è, l'unghia, Mi cazzo, Io, merdami, non ti sa mai, L'unghia, ma perché? L'upper di fango va? Maledetta, D'acqua, l'unghia, Sta grandine che rompa come sempre, Naga pugno Needsi un braccio di fango, probabilmente un bagno mettere note, D'alto così devo api di uscire che tipo di pokemon è? se no metto wimpy ma non è d'acqua se non è non è d'acqua però c'è idropompa c'è la possibilità di essere d'acqua che ci sono non mori mi hai detto lui usa coso usare ricarica totale prova a metti wimpy non te lo usare ricarica totale ci scommetto se vi pare ma perchè fallisce falle lama da quant'è che fallisce così tanto falle lama dai che palle inutile inutile wimpy boia che palle cazzo me è l'attoria non c'ho pokemon che li possano da noia si muoveremo zaptos magari sembrava compil fuori becco ma è l'attoria eeeh eeeh tra pompa di vederci no non male non altra ne si fa fa ma ti attacco Non so se con Megapune ce la posso fare Rimerdami Provo a rimanere con Majin Bu Boh è odioso lui Caccia in volo Boh Boh Che cazzo di Forza Meno mano non l'ha fatto di presa vai Dai 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 Andiamo de boia Duoi de boia E' stato lunghissimo de Vabbè l'importante è alla fine avercela fatta Grazie grazie Mister Fantastic Non c'è il campione No? Mi ricordava ci fosse il campione Boh vabbè Mi ricordava male a quanto pari No a regola no a regola c'è poi il campione c'è la domina No non devi battere ne vattene Sono trovato più il campione Chissà chi è No davvero non so chi è Allora Che ecco qui si fa sentire l'assenza di pipì eh Tipo fangobomba di verdaman Io lo uso spesso Non ce l'ho più Andiamo Andiamo a vedere cosa c'è di va Via Oh infatti Non ce l'ho assalato noi Lui sarebbe il campione No perché c'è la linea di Ashe Boh vabbè Lui è Giglio Ma pirla a campione Decidiamoci eh Questa è un errore Boh vabbè Bene si inizia premente di merda Ma se ne cosa c'ho Mega fun Non c'ho più cosa Non ne va una Non ne va una Maledetta la miseria La Majin Bu Vieni Boh Tu mi ha levato Vai Che palle Attacca un po' Buono E uno è andato Troll face Mamma mia Che pesata Eh rompe le palle Rompe le palle Rompe le palle Azione max Vieni Dai che palle Attacca un po' Sv Buona gialla dai 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 Mano si Eh che palle invece Pensavano non usassi di caricata Salve Nooo nooo Non dove vi asca Porca miseria Eh Bohia Via ribonda Bohia che patimento Troll face Anche prima Quando l'ho incontrato Mi è andato abbastanza bene Ma io di proprio In generale nel gioco Bohia che rottura Dai 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 attacca vale mai morto finalmente fuori a che si è data c'è anche nado ti amo in piedi la regola deve essere d'acqua per me a livello vediamo che livello è di 63 art non dovrebbe ammazzarlo ovvia va bene l'avevato è giusto ora mori ma va bene per me lo sa sonnifero io brodo non ci ho pensato bravo simone mettiamo maicinbu un'altra volta si boh mettiamo zaptost vai non la senti rischiamo se usa volo se si riesce a combinarlo ah gilicard di ebono pensavo usassi in altra parte idropompa bravo bravo grazie vale è morto avvelenato veleno punto boi compagno cazzo io non me li ricordi li ho già visti ah è quell'altro l'amico di trombino via ah che mostro troiaio allora ma buono e poi si mette merda me ne ha siuso a terremota regola da una banda ma forza t vai si vabbè ho sbriciolato zaptost vieni buono va a terremoto oh finalmente eh è sbriciolato dai mancano due dai che ci siamo quasi fake crash vediamo la terremoto della banda vediamo vediamo si mmm mmm buono se dovessi saltire moto dovrebbe andare cioè dovrebbe ucciderlo a regola però si attacca la difesa dia vanno buono boh si tenta vieni anche vecchio mi sembra il caso mofidetta la miseria eh avrei cosa cosa vediamo ma strano ma strano la carica totale no cambio da lì c'ho 1 e 1 cambio vieni ti metti boh ti metti trombino boh ti metti trombino boh poteva salire al 46 maledetto ma io ho un magico surf chissà se arriva boh 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 ho trovato la mossa che forse mi poteva dareva qualcosa no non ci lancia nemmeno ad andare da cosa da merda mi usa a terremoto terremoto si usa per il pokémon dopo e ora sai mi usa maledizione eh eh fatti non male bella vabbè si fa delle male anche da solo no anche vai vai vieni ma jimbo fai una mossa fai forza e ammazzalo ti prego no un'altra volta dai che palle ahhh che patimento dai che troiaio vediamo se vuole qualcosa di più si si in realtà si fratello morte allora vi bisogna di volata ma no aspetta ma perchè vai ma di volata si un zaptost vai il carino totale così va bianchi il veleno buono lascio dove ma immacano poi perchè non so se si attacca con zaptost con majinbu boh vabbè si mette majinbu oh si si fa i ritorni a vita boia ma da quanto cazzo ne ha levato di tio monodi oh ora si mette caso si dovesse essere in grado di farle arrivare la vita a rosso o non dire a me un'altra volta ricarica totale eh no 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 perchè sennò per davvero si scherza perchè la voci po quando in realtà il rumore cioè quando in realtà cioè quando in realtà do la prevali di più ma è macano è un casino vabbè ne non mi muo sta merda me ne basta ora si riesca di buttar via tutto zaptost eh oh il ruttore buono fallito majinbu ma ancora maledizione fakecrash ragazzi è veramente la ruttore di coglioni madonna santa magari ma il mando invita tutti il più possibile sarebbe buono se cocia ora metto wimpy build off magari usa sonnifero o si attacca con lui cosa si fa? no no me la sento me la sento piuttosto muore madame un palasce no un'altra mimi non ci voglio le raid ma quante volte lo usi eh dai ma cos'è uno scherzo eh boi che palle ma via voglio provare a mettere wimpy build e farlo addirmentarsi guarda un po' eh po' quanto è lunga è sta ossa via buono 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 sono diventato ve lo vedi quanto fa li posto un po' le lano magari boh magari scazzo e mi dava uno sbotto non male beh come sta sveglia ma addi già no eh dai dai ma si scherza eh boia di trombino usiamo il selfie che prima aveva fatto parecchio e ora voglio vedere cazzo metto così un po' no 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 si è morto è morto è morto è morto è morto boh è uguale finalmente die finalmente boia die ale chi c'è ora madman è morto già come ho dito me stesso pfff pfff ma perché palla ombra vai madman guardiamo un po' se cosa saremo cosa può succedere buono vissuto 6 raga non dovrei per ammazzare gruppo di fango oh via ci si è fatta boia di che impatimento c'è scritto tanto non ho letto addio via ci si è fatta la lega l'abbiamo battuta non ho letto non ho letto via godiamoci questa sala d'onore merda man wimpy bell dildo majinbu trombino zaptost yes che culo vabbè alla fine ce l'abbiamo fatta è stato un video parecchio lungo ma alla fine è valuta la pena ma si è vinto la rosa salcazzone congratulazione la lega pokemon ma io ora cosa succede niente video ma io asci asci che era un errore mi senti prima doveva essere asci non giglio no almeno così sembra che è ricerci ai classici titoli di coda però vabbè vabbè se si vede dopo il titolo di coda e indipendentemente da quello che succederà poi arriveremo alle conclusioni oh riaccosci vediamo un po' ok ciao i nomi se ritorno che va vabbè fai vedere fine quindi ragazzi non ci resta che recarci apposti via detto vesto niente arriviamo alle conclusioni e la cosa di tonio la vedremo poi nei prossimi episodi infatti si è sbloccata lì la grotta via quindi niente ragazzi per questo video è tutto è stato lungo come vi ho già detto ma d'altro bisogna battere la lega ci è andata bene che ce l'abbiamo fatta al primo colpo anche se uno dice ne abbiamo usato 1700 pozioni per pozioni di vitalizzanti si è vero però ce l'abbiamo fatta alla prima volta vabbè e via detto questo niente arriviamo proprio alla conclusione via come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra a fare se volete queste cose ovvero mettete un bel mi piace al video condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale via detto vesto niente ci vediamo al prossimo e credo ultimo episodio credo non lo so via ciao 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 ciao